Le notizie. Da Borrelli, capo della protezione civile, abbiamo avuto già 15 milioni di euro per fare fronte ai danni da neve, emergenza maltempo 18 gennaio 2017. 15 milioni per pagare le spese sostenute dai comuni per la rimozione della neve, per l'accoglienza alberghiera alle famiglie danneggiate, evacuate e anche per i primi lavori di somma urgenza per rimuovere gli incombenti pericoli. Poi avremo altri 32 milioni di euro al 15 novembre, terminato uno scrutinio tecnico che stanno facendo dipendenti della Regione e dipendenti della protezione civile nazionale. Ma c'è un'altra grande notizia. Finalmente 44 milioni di euro costruiti tra Regione e Ministero dell'Ambiente per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ieri sera ci sono stati deliberati, liberati da Ministero dell'Ambiente su valere circa una programmazione attivata da noi 12 mesi fa. A partire da questa lettera possono partire le gare d'appalto dei comuni per 44 milioni di euro. Per esempio ci sono i soldi per le frane della città di Chieti, per Castiglione, per Civitella, per Mosciano, per Rosello. Sono circa 21 comuni che hanno trovato copertura. Ma voglio anche comunicare un'altra grande risoluzione. 16 milioni di euro per il parco depurativo nuovo al servizio della qualità delle acque di Pescara, Montesilvano e Spoltore e San Giovanni Teatino anche. E abbiamo anche risorse finanziarie per ulteriori situazioni depurative della Regione Abruzzo. Insomma siamo davanti ad un grande cantiere che adesso richiede da parte dei comuni una straordinaria collaborazione. Grazie a tutti.